. Uomini e donne, Rosa e Pietro, Camilla e Lavignali attaccano Soleil Sorghè. Uomini e donne, i messaggi di sostegno per Luca Onestini al Grande Fratello VIP, contro Soleil Sorghè. . Brutte notizie al Grande Fratello VIP per Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne ha potuto rivedere suo fratello Gian Marco, ma allo stesso tempo è venuto a conoscenza di quanto sta accadendo fuori. . . Scendendo nel dettaglio, Gian Marco ha raccontato a Luca della bufera nata fuori dalla casa su Soleil Sorghè. Quest'ultima è, infatti, stata beccata in compagnia dell'ex tronista Marco Cartasegna. . . Questa notizia ha mandato in crisi Luca. Ma sono soprattutto alcune affermazioni fatte da Soleil che hanno mandato su tutte le fure e l'onestini. . L'ex corteggiatrice ha dichiarato nello studio di pomeriggio 5 di non apprezzare molto i modi di fare della famiglia di Luca. Questo ha gettato nello sconforto il concorrente, il quale ha scelto di stare dalla parte della sua famiglia. . Una decisione molto importante quella dell'onestini, che avrebbe potuto varcare la porta rossa della casa per affrontare Soleil. Tante sono state le lacrime di Luca, la cui storia con la sorghè sembra essere giunta al capolinea. . . Ma ecco che da fuori arrivano per l'ex tronista forti messaggi di solidarietà da parte di altri protagonisti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Camilla Mangia Pelo. . Rosa, Pietro e Camilla sostengono Luca Onestini al grande fratello VIP. Tanti messaggi e gli applausi da parte del pubblico e dei telespettatori per Luca Onestini. L'ex tronista può vantare dell'appoggio dei fani dei suoi cari. . Le parole di Soleil hanno lasciato tutti senza parole e questo ha portato altri volti di uomini e donne a parlare. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno fatto sapere ai fan di essere sintonizzati sulla puntata di questa sera. . L'ex corteggiatore, appoggiato dalla fidanzata, ha dichiarato tutto il suo sostegno a Luca. Io e Rosa stiamo guardando il GF e veramente io non ho parole per quello che ho appena visto. . È una situazione di una tristezza infinita. I due concludono il messaggio, la nostra solidarietà a Luca, ci dispiace un sacco. . Che brutta cosa non ci sono parole. Nel video condiviso dalla coppia è impossibile non notare la didascalia, siamo con te. E ancora, anche Camilla Mangiapelo ha commentato quanto accaduto all'interno e fuori della casa a Luca e Soleil. Grande Luca. . Family First? Dunque, anche la fidanzata di Riccardo Gismondi appoggia Luca. . Uomini e donne, Valentina Vignali rivendica quanto detto in passato. Non poteva non mancare il commento di Valentina Vignali. . La sportiva, anche questa volta, ha scelto di dire la sua su Instagram. Quando le cose le dicevo io mesi fa ero stia. Valentina aveva più volte commentato la coppia e ora sembra aver avuto la sua rivincita. . . . . . . . . . Grazie a tutti.